Talmaci Talmaci Gabor Talmaci Questo ventunene di Budapest Talmaci 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 Gabor Talmaci 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 Gabor Talmaci 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 Gabor Talmaci 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 Gabor Talmaci Sulla destra del schermo, Oggialli, poi vengono, Talmachi e Bianchi, dietro il peccato, dietro il rosa, semacolo rosso, partiti, fate bene Talmachi, vi seguitemi solo con la spinta, forse resta un pochino, l'ha avventato Oggialli, allora vediamo, Talmachi, ho avuto l'unico lato sulla destra, una versata, è il primo da portare la prima scuola verso destra, l'occhio a Talmachi, poi scontriami di Angelis, Alexi di Angelis, poi già riportato, ma all'estrata la scuola, sono rotto, ecco qua, Talmachi e Benzoni, Talmachi e Benzoni Talmachi 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 Gabor Talmachi 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 Gabor Talmachi 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 Grazie a tutti.